ah è un cac ringraziamo gesù eterno e santo uomo come noi però dio nostro creatore facciate entro la capoccia il breccion del tevere te chi sei? te chi sei? te gioco il bagin tamaz guarda un po' quello l'incazzato vai chi non lo fanno l'incazzato non lo fanno l'incazzato sta non sarà non sarà io bucana no io no no ci riusciano ma questo va al piccaccio la sua presenza potrebbe vivere più edilico venendo da morte corpi da scopare venendo a piccaccio non lo fanno non lo fanno non lo fanno non sia ma Grazie per la visione! 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 Ma che p***a! 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 Stagneri mi stavo più sopra di ferro! Ma deve fattu' un c***a ben bene! Che è sta merda? Da lì! Mi so già bel che rotto! Sato la te... Conviene sempre... Che cosa ha detto? Choco... Questa è il giù... Che è il giù di trattare... Che è il giù! Che è il giù di trattare! E' stai ragazzi! La tua anima già, eh? Breddy! Breddy vicino! La lussuria! Non puoi! Non puoi! Conviene. Non puoi! Ho 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 ho! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Te devi frustrante le palle quando senti che hai bisogno di un egoismo personale. Ma sul serio? Hai capito? E beh. A me non mi fa fregare di meno. Qua sei bravo. Sei chi sei? Chi sei per me? Vaffanculo. Te lo metto in te l'occhio, ti afficco il dedo in te l'occhio. Te lo metto in te l'occhio. Grazie per la visione Grazie per la visione